Mauri comunque stai a parlare con la persona sbagliata, io ho mandato via dall'under 21, ho mandato un tribuna, l'ho sfondato, sperando che potessi prenderlo un tempo, invece niente, purtroppo quando dico a celebro leso, adesso tutti vanno in giro, c'hai ragione, c'hai ragione, che c'eva ragione purtroppo, è un problema grande questo, proprio per lui, per la vita, non capisci un cazzo.